Domenica pomeriggio alle 18, arbitri Corso di Pise e Nocchi di Vico Pisano, la Menscuola Baschia e Tarezzo sarà impegnata a Livorno contro la Toscana Food Don Bosco. In quello che è uno dei tempi della pallacanestro italiana, lo storico Palamacchia, gli Amaranto si troveranno ad affrontare una formazione rinnovata rispetto a quella che all'andata mise in serie a difficoltà il quintetto di coach Millie che solo grazie ad una invenzione di De Bartolo allo scadere conquistò la vittoria. A rinforzare la squadra di coach Aprea il Don Bosco ha richiamato due giovani talenti, Korsunov e Tintori, quest'ultimo fresco di convocazione con la nazionale under 18 di coach Capobianco, miglior realizzatore dei Livornesi e fino ad oggi Mencherini con più di 13 punti realizzati a partita con Korsunov che con sole due partite giocate raggiunge quota 11. Da segnalare la presenza nel Don Bosco del nazionale under 17 a un Jaffè che ad oggi è il secondo rimbalzista dell'intero campionato con oltre 12 palloni catturati a partita. La voglia di recuperare da una classifica non facile fa poi del Don Bosco il classico avversario da affrontare con grande determinazione. La sconfitta di 15 giorni fa sul campo del Val di Sieve dimostra come in questo campionato non siano ammessi momenti di appannamento per poter ottenere risultati positivi. Per questo al Palamacchia l'Amen è chiamata ad una prova convincente per mettere ancora spazio in classifica tra sé e la zona play-out.